Passando all'attacco, è un attacco che a me piace, l'ho detto prima, è l'attacco che mi piace di più perché è pesante, perché penso che fa paura alla difesa, perché penso che nei cross ha il nostro potere fisico e di qualità, poi un palo però con le sponde, cioè ti fa andare se vuoi in contropiede con le sponde gli altri, lui in sé non può, ci arriva, poi si butta in mare, quindi può anche chiuderlo lui, il contropiede per esempio, però si non è quello che ti domanda in profondità e con la rapidità arriva a tirare, non è quella roba lì ma fa tutto il resto bene, devi giocartene in modo diverso con loro, devi far andare le ali, devi far andare gli esterni, nel nostro caso, per poter far rendere i due attaccanti così, oh, Gittger la mette sempre dentro, tra l'altro nei primi minuti, è abbonato, poi un palo la mette dentro, punto, praticamente ogni partita,